Ciao a tutti, mi chiamo Luca e a ottobre mi sono laureato in Biomedical Sciences presso l'Università degli Studi dell'Insubria e successivamente mi sono trasferito qui a Basilea per iniziare un dottorato in Neurobiologia. Quello che posso dirvi con certezza è che rifarei assolutamente la stessa scelta per quanto riguarda il percorso magistrale, per diversi motivi. Il primo è che sicuramente mi ha dato delle basi solide per poi poter iniziare questa nuova avventura qui a Basilea. Un altro motivo è la lingua, perché penso che studiare in inglese al giorno d'oggi e soprattutto nel nostro campo dia un quid in più. E inoltre un altro motivo è sicuramente la gran voglia di miglioramento che ho visto nel corso di laurea perché è un corso di laurea molto giovane e quello che ho percepito è una grande apertura verso gli studenti e quindi questa gran voglia di miglioramento che non penso sia da sottovalutare, non penso sia facile da trovare in tutti i corsi di laurea. Quindi io non posso fare altro che augurarvi buona fortuna per la vostra scelta e per il vostro futuro. Ciao a tutti!